Io e mio papà a Brusson questo video lo dedico a voi. Brusson, la foto Simone Savaro, questo qui eravamo al lago, foto, modello, stiamo editando il video, top! L'eleganza si vede in una masso di foto. Noi siamo la bellezza, noi siamo la vita, noi siamo la speranza per il mondo, siamo l'emblema dei giovani. Brusson 2020, il regalo siete voi. Editare un video, la bellezza di mettere le foto dei paesaggi, creare dei video di cui lo spettatore è amabile. Brusson, la città viva, in montagna, bellissimo. Vita, speranza, rilassamento. Questa è la bellezza dei miei video. Voglio trasmettere allo spettatore il cinema, la bellezza. Poi ci sarà un video dove spiegherò Alessandra, che cosa vuol dire e che cosa c'è. Questo video è per tutti voi e per tutti quelli che ovviamente mi seguono. Un bacio a voi, voi tutti.